Maria Lucia Revisore-Pierre Nuovi stili di vita e l'innovazione tecnologica possono cambiare la nostra salute e la sanità. Perché dobbiamo cambiarla? Perché oggi c'è un fenomeno alla cui la società assiste, ed è l'invecchiamento. Guardate le curve di invecchiamento. La fascia rossa, quella dai 15 ai 65 anni, e qui è proiettato dal 1990 al 2060. Questa fascia della popolazione, che è la popolazione attiva, la popolazione che lavora, diminuisce. Passerà dal 67%, oggi siamo al 67%, al 56%. E quello che aumenta invece è la parte destra del grafico, la parte sopra i 65 anni. Oggi, sopra i 65 anni, abbiamo circa il 14%, ma arriveremo al 30%. Cioè nel 2060, uno su tre avrà più di 65 anni. E anche gli ultraottantenni, gli ultraottantenni che oggi sono il 5%, quindi uno su 20, nel 2060 sarà più di uno su dieci, avrà più di 80 anni. Questo cosa significa? Questo invecchiamento della popolazione significa... Guardiamo anche il rapporto. Il rapporto... Oggi ci sono quattro persone che lavorano per ogni persona anziana. Nel 2060 ce ne saranno due. Addirittura, se prendiamo vecchi e bambini, chiamiamoli anziani e bambini, questo rapporto diventa quasi uno a uno. Questo ha un effetto fortissimo sulla finanza pubblica, sulla sanità. La sanità pubblica è pagata dal bilancio dello Stato. Oggi, in Italia, la spesa pubblica in materia di sanità è il 9,6% del PIL, ma diventerà, questo è un dato europeo, ma diventerà il 12%. Se addirittura prendiamo tutta la spesa che è relativa agli anziani, quindi la spesa che vuol dire incluso anche le pensioni, oggi siamo al 23% del PIL e nel 2060 arriveremo al 28%. Quindi un terzo del PIL verrà speso per gli anziani. In questa c'è un'opportunità, e la voglio citare. L'opportunità è che il settore sanitario è un settore che offrirà nuovo lavoro. Noi stimiamo a livello europeo che ci sarà una mancanza di un milione di persone, di medici e infermieri, medici e infermieri nel 2020. E il settore sanitario, insieme alla green economy, in particolare le energie e le tecnologie dell'informazione, sono i tre settori dove gli impieghi aumentano e aumenteranno tantissimo nei prossimi anni. Ma sicuramente abbiamo un problema di sostenibilità del bilancio. Guardiamo quanto cresce la spesa pubblica sanitaria pro capita rispetto al PIL. Qui abbiamo preso tre anni di riferimento, 2007 e 2009, ma diciamo era un momento della crisi, ma non è che è cambiato molto. Il PIL, che è quello rosso pro capita, diminuisce in un solo paese. Qua, quello centrale che è la Polonia, c'è stato un PIL positivo. Ma la spesa pubblica sanitaria pro capita aumenta e aumenta tantissimo. Quindi capite che c'è un divario, la spesa pubblica che deve essere pagata dalle finanze aumenta, il PIL diminuisce. E questo è un fattore che viene guardato. Le famose odiate agenzie di rating guardano oggi quant'è la sostenibilità appunto del sistema finanziario pubblico. Adesso cerchiamo di trovare le soluzioni a questo problema. Innanzitutto, noi se guardiamo quali sono le cause di mortalità, quali sono i rischi sanitari, noi siamo riusciti a gestirne alcuni. Guardate in questa figura, per esempio. La mucca pazza, quella grave crisi alimentare della fine degli anni 90, aveva fatto in totale 200 morti, l'abbiamo debellata. Le contaminazioni alimentari, le famose infezioni alimentari, che avevano decine di migliaia di morti negli anni 80, negli anni 50, oggi ancora fanno un certo numero di morti, ma è gestibile. Soprattutto le controlliamo. Quello che invece non controlliamo e che è la piaga della società moderna sono i tre fattori di rischio, che sono il tabacco, l'obesità e il consumo eccessivo di alcol. Il tabacco. Il tabacco oggi in Europa ammazza 700 mila persone all'anno. Un fumatore, immagino che ci sono molti fumatori qui, quindi andrò molto severa con i fumatori. Un fumatore non soltanto ha una chance su due di vivere 14 anni in meno di uno che non fuma, ma passerà gli ultimi anni della sua vita, in media tra gli 8 e i 12 anni, malato. Quindi creando un problema per se stesso e per la famiglia, ma anche per la finanza pubblica. Perché costa, la malattia e il tabacco costa. L'obesità. L'obesità è in crescita. Dell'obesità quello che preoccupa di più è la tendenza nei bambini. 20 anni fa avevamo un bambino su 10 che era obeso o sovrappeso. Oggi è uno su quattro. Cioè in Europa ci sono 22 milioni di bambini che sono obesi e continuano ad aumentare. E dei bambini sovrappeso, obesi, saranno quelli che svilupperanno malattie cardiovascolari, che avranno diabete di tipo 2, che è molto in aumento e che è una malattia molto costosa. Quindi bisogna fare qualcosa, bisogna cambiare. Come facciamo a cambiare? Dobbiamo scegliere. E le scelte sono anche delle scelte individuali. E io dico scegliere non soltanto per vivere di più, perché quello che conta non è soltanto l'aspettativa della vita. Io come una donna, donna europea, posso vivere 82 anni. Se fossi italiana ne vivrei, sono italiana, ma se vivessi in Italia ne vivrei 84. Ma quello che conta è la parte della mia vita che io spendo in buona salute. Ed è questo l'indicatore importante. In inglese si chiama gli healthy life years, o gli anni di vita in salute. E non sono, oddio, non sono tanti, non sono pochi, aumentano. Ma sono 62, 63, 64. Quindi vuol dire che io spenderò quasi 20 anni della mia vita non lavorando, non essendo produttiva ed essendo un peso per la società. Cosa possiamo fare per cambiare? E qui è la responsabilità individuale. Allora, la nostra salute dipende da quattro fattori. Due fattori, non ci possiamo fare nulla. Due fattori, possiamo influenzarli. I due fattori sui quali non possiamo agire sono l'età, il sesso e la genetica. Su questo ci siamo nati. Pensate, per esempio, alla genetica. La genetica influenza quasi tra il 20 e il 40% del peso corporeo di un individuo. Quindi non c'è molto da fare. Cioè, uno chiaramente può dimagrire, ma a un certo punto c'è anche di mezzo la genetica. L'ambiente, l'ambiente naturale e anche l'ambiente socio-economico. L'ambiente naturale, se noi viviamo in una città molto inquinata, abbiamo un tasso di mortalità che cresce del 15-20%. Se siamo esposti alle polvere sottili, anche lì abbiamo un tasso più elevato di malattie e anche di mortalità. Addirittura anche il livello sociale conta. È stato fatto uno studio in Inghilterra, guardando l'aspettativa di vita e appunto gli anni in salute tra il centro di Londra, con un livello di vita elevato, e la periferia est, la periferia povera. E si è visto che per ogni fermata della metropolitana l'aspettativa di vita cambia di un anno. Quindi questi sono i fattori su cui non si può agire. Ma ci sono due fattori su cui voi potete agire, su cui voi siete responsabili, ed è lo stile di vita e il sistema sanitario. Lo stile di vita dipende da quattro cose. Il tabacco, l'alcol, la dieta e l'attività fisica. Noi oggi, assumendo uno stile di vita salutare, possiamo prevenire molte malattie. Quindi possiamo aumentare quella parte della vita che noi viviamo in buona salute. Un terzo dei tumori si può prevenire, un terzo dei tumori, cambiando gli stili di vita. E cambiando gli stili di vita non soltanto miglioriamo la nostra salute, ma miglioriamo anche il peso che noi abbiamo sul sistema sanitario. Guardiamo a livello di prezzi. Che cosa costa un paziente di tipo che ha una malattia di diabete, diabete 2? Costa 3.000 euro il sistema sanitario. Cosa costa la cura di un tumore? Ho detto un terzo dei tumori sono prevenibili. Costa 40.000 euro. Cosa costa il trapianto dei polmoni per un fumatore? 200.000 euro. E dall'altra parte abbiamo dei costi che sono quasi zero. Fare più attività fisica, cambiare la dieta, smettere di fumare. Ed è qua che secondo me l'individuo ha una grossa responsabilità. Ma come si fa a cambiare il comportamento? Cambiare il comportamento è difficile. Perché vedete, io vi sto aumentando la vostra consapevolezza. L'avete di già, la conoscenza ce l'avete. Oggi abbiamo la conoscenza di quali sono i fattori di rischio. Si può anche cambiare atteggiamento. Per esempio il fumo oggi, l'atteggiamento della società nei confronti del fumo è cambiato. Il fumo non è più una cosa chic, una cosa trendy, una cosa elitistica. Il fumo lo si colpevolizza un po' il fumo. Ma per cambiare il comportamento, quindi per veramente passare da un atteggiamento a un diverso stile di vita è più difficile. Che cosa si può aiutare? Oggi le tecnologie digitali, quelle internet, il famoso quinto dito, sicuramente le tecnologie digitali aiutano. Perché le tecnologie digitali, soprattutto nei giovani, influenzano i comportamenti. Ma si può intervenire anche con delle norme, delle normative, delle misure fiscali, degli incentivi. Guardiamo alcuni esempi, per esempio, normative. Il divieto di fumare, che oggi esiste in 10 paesi europei, tra cui anche l'Italia, di fumare nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro, ha permesso in Italia di diminuire dell'11% gli attacchi di cuore. Cioè, da quando è stato introdotto? Sono misurati, negli anni successivi, 11% in meno di attacchi di cuore. In Italia, in Inghilterra, 19% in meno. Aumentare le tasse sulle sigarette. L'aumento del 10% della tassa sulla sigaretta, più o meno, riduce del 6-7% il consumo. È molto difficile, l'ultimo esempio, è molto difficile cambiare le diete alimentari. E qui la Commissione Europea ha fatto un programma che è in vigore da qualche anno, la distribuzione della frutta nelle scuole. Noi distribuiamo una porzione di frutta per 8 milioni di bambini a livello europeo e abbiamo monitorato il consumo della frutta e si è visto che questi bambini non soltanto consumano la frutta nella scuola, ma la consumeranno di più a casa e diventano anche un modello per i loro compagni. Altro esempio è una campagna, la campagna di informazione che noi abbiamo fatto, che si chiama Gli ex fumatori sono irresistibili. Perché? Innanzitutto il 70% dei fumatori comincia a fumare prima di 18 anni. E lì è la società che influenza, il famoso comportamento. La società influenza, uno incomincia a fumare. Quindi abbiamo deciso di agire nella fascia della popolazione che va dai 25 ai 35, quando la gente comincia a riflettere, comincia ad assumere più conoscenza, consapevolezza e magari a cambiare comportamento. E soprattutto a passare per una volta un messaggio spositivo. Se smettete di fumare state meglio, starete meglio, sarete più forti, farete più sport, sarete anche più ricchi perché spendete meno. E questa campagna è accompagnata da una piattaforma digitale, un e-coach, per seguire il fumatore ed accompagnarlo. E cercare di farlo riuscire a smettere. Quindi questi sono gli stili di vita. Ma vi avevo detto che c'erano due fattori sui quali noi possiamo agire. Lo stile di vita e il sistema sanitario. Vediamo cosa possiamo fare noi per il sistema sanitario. Oggi la sanità, diciamo come le medicine, la medicina viene prodigata ai pazienti, sta cambiando. C'è la rivoluzione digitale che è stata nella società, sta entrando anche nella sanità. C'è un nome in inglese, si chiama e-health, in italiano si chiama sanità, sanità elettronica, la e-sanità. Che cosa vuol dire? Vuol dire introdurre le nuove tecnologie e le piattaforme digitali anche nella sanità. Essenzialmente per quattro obiettivi. Il primo, per gestire meglio i dati, se noi gestiamo meglio i dati sui malati, sulle cure, sui trattamenti, possiamo comparare, vedere quali trattamenti sono più efficaci. Secondo, possiamo integrare, coordinare meglio i vari livelli di cura, a livello del medico, del centro dell'ospedale, del centro specialistico. Possiamo curare i malati cronici lontano dagli ospedali, tenere le persone fuori dagli ospedali. E quarto, possiamo assicurare l'accesso alle cure anche nei posti remoti, nei posti lontani, in montagna, in campagna. Ed è provato che un sistema di e-health sicuramente abbatte i costi e rende il sistema sanitario più efficiente. Vi cito due esempi. Primo, questo esempio di telemedicina, che è stato applicato oggi da nove regioni in Europa, di cui la leader è il Veneto, e che funziona da qualche anno, dove praticamente hanno collegato l'individuo, cioè il paziente, con il medico, con il trattamento primario, con l'ospedale specialistico, con la cura post trattamento, per permettere, primo, di avere tutti i dati gestiti da un sistema centrale, soprattutto per poter fare anche il controllo remoto del paziente, un sistema di monitoraggio, un sistema di allerta. E questo è un sistema che abbatte i costi. Un altro caso, il mio cuore. Questo è un progetto che è in vigore in 33 paesi, tra cui i Stati Uniti e anche alcune parti d'Italia, dove viene dato ad alcuni malati di malattie croniche, soprattutto malattie cardiovascolari o malattie anche respiratorie, asma, diabete, degli apparecchi biomedici intelligenti per misurare dei parametri, misurare la respirazione, la pressione, il battito cardiaco, la pressione sanguigna, addirittura fare l'elettocardiogramma, tutto attraverso degli strumenti intelligenti, che può essere una maglietta, può essere un letto, degli apparecchi, degli apps. Oggi ci sono degli apps per i vostri smartphone. Ma questo, attento, perché vi dico richiede anche il vostro aiuto? Perché vuol dire che il paziente diventa un attore della propria salute. Non è più soltanto il rapporto tradizionale paziente medico, dove il paziente è un attore passivo. Il paziente, innanzitutto, deve imparare, ma deve diventare anche co-gestore della propria salute. E sicuramente è una scelta, sicuramente noi come autorità dobbiamo spingere le nuove tecnologie per gli health, ma anche il cittadino deve essere pronto ad accettarle. Quindi, in conclusione, sicuramente noi abbiamo un problema di invecchiamento della popolazione. Questo invecchiamento della popolazione crea un peso sulla finanza pubblica, perché il sistema sanitario è pubblico, che è fortissimo. Noi in Europa, cioè l'assistenza sanitaria in Europa è l'unico posto al mondo dove l'assistenza sanitaria è un diritto, è scritto nel trattato. L'accesso universale alle cure di buona qualità per un cittadino europeo è un diritto. Quindi noi vogliamo mantenere, vogliamo che questo diritto funzioni. Perché funzioni dobbiamo rendere il sistema sanitario sostenibile. Per renderlo più sostenibile dobbiamo, da una parte, responsabilizzare l'individuo. L'individuo deve adottare degli stili di vita migliori, più salutari, per prevenire le malattie. E dobbiamo spingere l'innovazione nel sistema sanitario, perché l'innovazione aiuta a ridurre i costi. E con questo, vi voglio ripetere, le vostre scelte contano, la vostra responsabilizzazione conta e spero di essere riuscita a farvelo trasmettere. Grazie. 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 Grazie.